La Guardia di Finanza della tenenza di Tempio Pausania ha scoperto un'evasione fiscale di oltre 140.000 euro di ricavi non dichiarati e 25.000 euro di IVA non corrisposta. L'attività ispettiva eseguita nei confronti di una dita individuale operante nel settore del sughero e riguardante le annualità dal 2012 al 2018 si è rivelata alquanto complessa per l'inattendibilità delle scritture contabili e ha richiesto un'attenta analisi e ricostruzione dello storico e il ricorso alle banche dati a disposizione delle fiamme gialle. A conclusione del controllo è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria il rappresentante legale della ditta per l'occultamento di scritture contabili in violazione del Decreto Legislativo 74-2000.